Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A Beco. I rimbalzi che hanno permesso a Milano di pareggiare prima e di allungare poi. Anza Heinz per la schiacciata al volo di Gandilavall. 14-10, più 4 Montegrenaro, la sensazione di poter assistere a un inizio tipo quello contro Pistoia, doppia finta! Lidaiso gli ha dato da dietro, gli ha dato davanti, alla fine trova 12, pronto con i piedi per terra. Eccolo lì! Bravo Stefano! Stefano Gentiles! Questa è la risposta che devi dare! Thomas sta per recuperare il pallone Gadeford, non lo fai, chioda il pallone al tabellone Sean King. Un attimo il blocco di Shekic, poi va in penetrazione, non c'è il canestro di Benzzi, c'è invece l'ottimo ripazzo di Mordente che poi riesce a seguire con un po' di difficoltà. Brux, il quale a stavolta alza la palla per Burr, l'Aleuco questa volta è sull'asse Brux-Burr. E' pronto per Uther, che va a schiacciare e subire il pallo, Adrian Uther, la storia fisica di Adrian Uther. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La vittoria liberta schiava la palla per vincere. Musso, un tiro e realizza! Realizza sì! Abbiamo vinto con un rimbalzo! In attacco una palla che non era più di nessuno, l'ha recuperata ed è andato a realizzare quindi una vittoria, signori! Pesantissima! Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, hanno presentato Serie A Beco. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!